Ecco sta puntando a rete, 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 3 a 0 per la Virtus Castelfrentano, ha realizzato la terza rete, da Mario Andrea, gliel'avevo detto dentro il pulmino, gliel'avevo detto che oggi segnava, 3 a 0 per la Virtus Castelfrentano, il primo gol della gara nel primo tempo, ecco l'arbitro si accinge a fischiare la ripresa del gioco, l'arbitro signor Odoardi della sezione AIA di Chieti.